siamo ancora non 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 Grazie a tutti. Ancora. 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 Grazie. 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 Ah 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 Grazie a tutti. 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 Torco sio. Oh, l'ho preso. No, l'ho preso. Ma che cazzo l'ho preso? Oh, l'ho preso. Minchia se era grossa questo. Per me era un luccio addirittura, ho visto una cosa strana addosso, ma non ho capito. Ma... Ma... Ho preso dei mostri, eh? Un apporto. Ma porco cano. Ancora... Che due coglioni, oh... Oh, riuscirò a prendere uno? Oh. Un apparto. Non ho. Un apparto. sì ma cos'è un caveto si vola finalmente orca leo che pazienza no ma perché ma porco ma non ci posso credere come cazzo l'hai buttato giù anche te niente non ci posso credere come cazzo l'hai buttato giù anche te